Con le aule completamente rinnovate che rendono maggiormente confortevoli gli spazi dedicati agli studenti di tutta l'età, fa sì che la Biblioteca Cinque Torri, d'ora in avanti, guardi al futuro con tanta fiducia. Dopo un percorso di aggiornamento di circa due anni, oggi sono state presentate al pubblico le novità della struttura bibliotecaria. Questa è una biblioteca storica della città di Pesaro, perché comunque nasce negli anni 70. e solamente due anni fa è stato deciso di rinnovarla, sia fisicamente e strutturalmente, rinnovando totalmente la sala studio, ma anche rinnovando ovviamente la collezione della biblioteca, rinnovandola con i libri, i fumetti, i graffi novel, dandogli una nuova identità proprio per la città, per questo quartiere. Siamo in un punto strategico un po' della città, perché siamo davanti a un campo scolastico con tantissimi ragazzi dai 14 anni ai 19, che appunto noi vogliamo diventare un punto di riferimento anche per loro. Appunto abbiamo rinnovato la collezione proprio pensando a loro, pensando a questa fascia d'età, abbiamo creato una nuova sezione proprio adolescenti che vuole soddisfare le loro necessità e i loro bisogni. La grossa novità che vogliamo portare è soprattutto anche invogliare e istruire, formare i nostri utenti anche sulla lettura digitale. Questa è una cosa che ci vuole contraddistinguere. L'aula studio, ampliata e rinnovata con nuove tecnologie e dispositivi in grado di essere più efficienti ai suoi utenti, è stata intitolata Prof Umberto Spadoni, indimenticato docente di storia e filosofia al liceo scientifico. Il progetto della nuova biblioteca Cinque Torri, rivolto all'innovazione ma con uno sguardo ancorato al passato, è un importante risultato ottenuto anche grazie al supporto del Comune di Pesaro. Un lavoro abbastanza lungo che ha accompagnato anche i mesi di chiusura per il lockdown, quindi abbiamo approfittato di questo, mesi in cui la biblioteca, grazie agli operatori, le operatrici, ai volontari anche della protezione civile, non ha mai fermato la propria attività, anche portando i libri a casa personalmente agli anziani, ma ora riapre con un restyling importante, innanzitutto l'ascensore che mancava per renderla completamente accessibile, ma anche sostanzialmente il raddoppio delle postazioni studio. Fondamentale perché anche prima del lockdown c'era tornata molto la tendenza dei ragazzi a studiare dalla propria città piuttosto che dalle sedi universitarie, e quindi serve molto più spazio per poter fare in modo che si possa studiare, non per forza a casa da soli, ma assieme in una situazione anche comunitaria e di scambio.